Dopo il colpo esterno sul campo del Certosa firmato Massella, il Pomezia fa il sessuordio casalingo in attesa di poter tornare a giocare nel proprio stadio alla fine dei lavori. Di fronte c'è l'Atletico Vescovio di Mister Lomonaco che ha eliminato a sorpresa la strea nel primo turno all'ivo di Marco 2-1 grazie ai gol di Pietro Battista e Tocci. Oggi per il secondo turno dallo stadio comunale di Torvajanica, Pomezia, Atletico Vescovio. Un saluto da Riccardo Selvi e Filippo Minichino, è il secondo turno di eccellenza della Coppa Italia di eccellenza di fronte alle formazioni di Mister Scaricamazza e di Lomonaco. Fischia Germano è cominciata, Pomezia, Atletico Vescovio con il primo pallone per la formazione di Lomonaco che attacca da sinistra verso destra con il giropalla in difesa. Occhio a Massella che stoppa questo pallone, poi c'è Cano col destro, anzi Otero, pallone sul fondo. Spostato sulla destra, ancora Massella cerca addirittura la conclusione in diagonale. Con il pallone che finisce sul fondo, forse deviato, sì, è calcio d'angolo. Per tentare di scardinare la scatola difensiva bianco-rossa, Massella stoppa col petto, poi va al tiro, anche in questo caso. Non inquadra però la porta, ma non disdegna le sortire offensie. Attenzione al pallone che sfila per Tocci dal fondo, Tocci col sinistro, pallone sul palo, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Vescovio, a sorpresa il fallo commesso da Celli, se non sbaglio. Tocci contro Donato, parte Tocci, pallone da una parte, portiere dall'altra. E il Vescovio è in vantaggio, 1-0 al 36esimo sul Pomezia, secondo gol in due partite per Tocci. Ruggero in mezzo a due avversari, se ne mancano una grande finta ancora Ruggero. Può pensare anche al tiro, lo prova a giro e il pallone finisce in porta per il pareggio immediato. Dei Rossoblu con Ruggero, tra i migliori in campo contro il Certosa, tra i migliori in campo fino a questo momento anche oggi. E al 39esimo, già 1-1. L'ho pinto in area di rigore, uno sguardo verso il centro, arriva il cross per l'inserimento di Ruggero. L'ultimo a toccare, l'ex Benevento rimesso dal fondo. Ruggero, verticale per Massè, la grande sponda per Otero che va col destro. E il pallone finisce sotto l'incrocio dei pali per un gol bellissimo del Pomezia, che completa la rimonta dopo tre minuti dall'inizio del secondo tempo. Botta sotto l'incrocio dei pali di Otero e 2-1 per il Rossoblu. Il pallone che finisce all'interno dell'aria, Pietro Battista col sinistro. Il pareggio del Vescovio, 2-2. Partita bellissima al comunale di Torva Iannica. Il neo entrato, Gian Pietro Battista fa 2-2 e siamo soltanto al 52esimo. Anche in questo caso pareggio immediato. Siamo già dalla parte opposta però con Massella che si curdina col sinistro. Ed è un altro gol pazzesco, bellissimo. Ancora Cristian Massella, secondo gol stagionale dopo quello realizzato al Certosa. 3-2 e girandola di emozioni al comunale di Torva Iannica. Segna Cristian Massella. Ancora Mico di testa, poi il sinistro dalla distanza. Donato in due tempi sul tentativo repentino effettuato da Giordano. Mico senza fallo, è rimasto a terra un giocatore del Pomezia. Cross verso il centro, lo pinto la mette fuori. Evora si coordina col destro. La parata con i piedi di Donato. Ora Bizzaglia può entrare in aria. Cerca di passare Bizzaglia. Fa il cross sul secondo palo. Non era male. Però va a muoversi Gian Pietro Battista. Pallone proprio per lui. Uno contro uno con Nelopinto. Cerca il tiro di sinistro. La respinta di Donato. E pallone che poi finisce in calcio d'angolo. Massella uno contro uno. Si butta dentro Gallo. Massella cerca il cross ampio sul secondo palo. Verso Bizzaglia che si coordina col destro. Pallone ancora dentro. E il Pomezia la chiude con il gol del 4 a 2. L'assist di Andrea Bizzaglia. Tutto al volo per Stefano Gallo che realizza il suo primo centro stagionale. E porta il Pomezia agli ottavi di finale. Schia per tre volte Germano. Il Pomezia batte per 4 a 2. L'Atletico Vescovio al termine di una gara pirotecnica. E accede agli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza. Fuori il Vescovio dopo una gara comunque generosissima. in attesa ovviamente dell'esordio in campionato tra sette giorni. Pomezia di fronte al grifone giallo-verde. Per il Vescovio invece impegno contro il Civitavecchia.